Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica. Si solleva nuovamente la polemica sui costi della politica e sugli stipendi dei consiglieri regionali. A farlo è il consigliere Leandro Bracco di Sinistra Italiana che questa mattina ha esposto un po' tutte le cifre che riguardano i rimborsi che percepiscono i consiglieri con stipendi che arrivano anche ai 10 mila euro e ha annunciato di presentare una proposta per ridurre il costo della politica di almeno 900 mila euro l'anno. Allora andiamo ad ascoltare insieme il servizio di Francesca Romana Testi. 6.600 euro di base, un'indenità di funzione che varia da 2.700 a 800 euro più un rimborso per esercizio del mandato, tradotto chilometri percorsi in macchina, di 4.100 euro netti. Questi gli stipendi dei consiglieri regionali della regione Abruzzo attualmente in vigore e deliberati dall'ex presidente di consiglio Nazario Pagano. Leandro Bracco, Trovate le Carte, presenta una proposta di legge per la riduzione dei compensi. Io trovo veramente che sia una sprangata in testa, un pugno nello stomaco verso la collettività abruzzese che un consigliere regionale debba guadagnare, debba mettersi in tasca quella cifra per dei rimborsi spese che forse non esistono o che comunque se esistono esistono molto parzialmente. La cosa importante è che se la mia proposta di legge che andrà in commissione a settembre dovesse essere approvata, il risparmio per le casse esangui della regione Abruzzo si attesterebbe all'incirca sui 900 mila euro. Io in questa proposta prevedo che coloro quali risiedono in una città che dista al massimo 50 chilometri rispetto all'Aquila si portano a casa non più 4.100 ma 1.500. Chi risiede fra i 50 e 100 chilometri 2.000 e oltre i 100 chilometri di distanza rispetto all'emiciclo all'Aquila 2.500. Quindi io faccio affidamento al buon senso e alla decenza dei miei colleghi. Questa delibera è firmata da Nazario Pagano, si parla del governo Chiodi. La data risale al 27 dicembre 2012. La cosa si commenta da sé. Chi ascolta ha l'intelligenza per capire la matrice della decisione. Restiamo a parlare di politica ma ci occupiamo di sanità. Perché non viene ufficializzata l'uscita dal commissariamento della sanità abruzzese? Quello che si chiedono i consiglieri regionali di centrodestra che spiegano come i conti siano in regola già dal 2014. Il servizio di Giorgio Alessandri. Non sarebbe cosa fatta come invece annunciato dal centrosinistra l'uscita dal commissariamento per la sanità abruzzese. Ne sono convinti dalla minoranza in consiglio regionale dopo che il centrosinistra è andato sotto nell'ultima seduta e chiedono chiarezza ad Alfonso e suoi. Da tre anni i conti avevano consentito, secondo l'ex governatore Chiodi, l'uscita dalla gestione commissariale della sanità. Eppure il decreto che ufficializzi un passo annunciato in pumpamagna dal governatore D'Alfonso ancora non viene reso noto. Perché si chiedono le opposizioni? La regione Abruzzo è ormai nelle condizioni di uscire dal commissariamento dal 31 dicembre del 2014. Perché ha restituito i 564 milioni di Euro che trafugò dal bilancio della sanità verso il bilancio regionale? Perché era in equilibrio ormai da tre anni? E perché aveva raggiunto il punteggio minimo dei livelli essenziali di assistenza che non aveva mai raggiunto nella sua storia Abruzzo. Era una delle regioni del commissariamento. Queste sono le condizioni del commissariamento. Ove non fossero sufficienti queste, significherebbe che dovrebbero commissariare altre nuove regioni italiane che non hanno queste condizioni e invece non le commissariano. Allora noi siamo usciti dal commissariamento di fatto al 31 dicembre del 2014 poteranno uscire. Perché siamo ancora nel commissariamento? Ci sono stati due anni di gestione delle due e due anni. O la dubbio che ha posto Mauro di Dalmazio, cioè la non volontà di uscire dal commissariamento per poter fare una serie di provvedimenti che, come avete visto, riducono l'offerta sanitaria pubblica e lasciano invariata con notevoli miglioramenti, direi, con altri dei sotterfuggi, quelli della sanità privata. Ma c'è anche un altro aspetto. Io non vorrei che il Ministero sia a conoscenza evidentemente di alcuni aspetti che denotano un trend, non più il miglioramento delle dinamiche sanitarie, bensì il peggioramento. Andiamo avanti. È stata fissata il prossimo 2 di dicembre l'udienza in Cassazione sulla cosiddetta Sanitopoli Abruzzese. A fare ricorso è stato l'Avvocato Gian Domenico Caiazza per chiedere di annullare la condanna a 4 anni e 2 mesi di carcere per l'Associazione per delinquere e induzione in debita, emessa quasi 8 mesi fa dalla Corte d'Appello dell'Aquila nei confronti dell'ex Presidente della Regione Abruzzo Ottaviano del Turco nell'ambito del processo su presunte tangenti nel mondo della sanità. In primo grado del Turco era stato condannato a 9 anni e 6 mesi. La Corte Aquilana in particolare ha condannato l'ex governatore per 6 capi di imputazione rispetto ai 18 riconosciuti con la sentenza di primo grado. Nel ricorso in Cassazione l'Avvocato Caiazza parla sostanzialmente di carenze, contraddittorietà e illogicità della motivazione di violazione della legge, soprattutto rispetto alle norme che riguardano la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da Angelini. Hanno fatto ricorso anche l'ex consigliere regionale Camillo Cesarone, l'ex segretario di Presidenza Lamberto IV, gli ex assessori Bernardo Mazzocchi e Antonio Boschetti, l'ex manager dell'Asle di Chieti Luigi Conga e Angelo Bucciarelli. Andiamo avanti. Furto in casa. Abruzzo all'ottavo posto in Italia per questo tipo di reato. Il dato emerge da un'indagine condotta tra gli over 60 e analizzata dalla confartigionato Abruzzo. Percezione di non sicurezza in crescita tra gli anziani, soprattutto nelle città più grandi. Sentiamo il servizio. 17,7 famiglie su mille in Abruzzo subiscono un furto in abitazione. La regione così si colloca all'ottavo posto della graduatoria nazionale. E' il dato che emerge dallo studio condotto dalla confartigionato Abruzzo sui primi risultati dell'indagine ANAP-ANCOS, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati e Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, su un campione di over 60 rispetto all'esposizione degli anziani alle truffe. In crescita anche la percezione di insicurezza. Infatti il 32,4% delle famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui vive, percentuale in aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale è inferiore alla media italiana del 41%, la percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea, che si ferma al 25,3%. Come nel resto del paese anche a livello regionale, più è grande la città di riferimento, più cresce la percezione del rischio, insicurezza che aumenta in modo proporzionale anche rispetto all'età degli intervistati, vale a dire che più si è anziani più si teme di essere vittima di furti, truffe per raggiri. In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori, commenta il presidente di Confartigianato Abruzzo Luca Di Tecco, la dicono lunga sulla percezione di insicurezza dei cittadini e soprattutto degli anziani in Abruzzo. Da anni l'ANAP regionale è impegnata sul fronte della sensibilizzazione continua di Tecco, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e prevenire reati, come testimoniano le numerose campagne antitruffa che anche nella nostra regione si svolgono ogni anno. Restiamo in tema. Aveva falsificato le firme nei contratti di fornitura di energia elettrica a favore della società Green Network Luce e Gas, del parroco di Tossicia e di quello di Colledara. Oltre a quelli di altri ignari utenti di quei comuni, i carabinieri della stazione di Tossicia, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo due procacciatori d'affari domiciliati a Bari e a Pescara. L'indagine è partita nel mese di giugno scorso a seguito della querela presentata dal parroco ai carabinieri della stazione di Tossicia che aveva segnalato il cambio del gestore di energia elettrica di tutte le sedi della propria parrocchia, avvenuto però a sua insaputa. La segnalazione ne è seguita a un'altra pervenuta da una signora residente nello stesso comune. I militari hanno acquisito le copie dei contratti ed hanno accertato che le firme apposte erano falsificate. È opportuno sottolineare, si legge nella nota dei carabinieri della compagnia di Teramo, che bisogna adottare tutte le cautele del caso, evitando di fornire dati personali o documenti da cui poter ricavare dati che potrebbero essere utilizzati senza il consenso del proprietario per scopi illeciti. All'Aquila una enorme voragine si è aperta in via Aldomoro nei pressi di un cantiere. Tragedia sfiorata, visto che la strada è normalmente molto trafficata. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri tra via Aldomoro e via San Sisto nei pressi di un'autobar pasticceria. Una enorme voragine si è aperta trascinando con sé asfalto e terra in una zona molto trafficata e dove solo per casualità non stavano transitando automobili. Proprio all'incrocio era stato abbattuto un edificio lesionato dal terremoto e, stando ai primi accertamenti, il crollo sarebbe da addebitarsi al cedimento del muro di contenimento che delimitava il confine tra la strada e la palazzina denominata Gian Maria. L'avoragine ha inghiottito asfalto e la recinzione del cantiere, costringendo ad un super lavoro Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, che ha provveduto a chiudere al traffico il tratto di strada di via Aldomoro, tra l'incrocio con via San Sisto e quello con via Colle Pretara. Molteplici le conseguenze del crollo, del quale ora dovranno essere accertate le responsabilità. Ciò che è certo è che il danno è ingente e prima di tornare alla riapertura della strada e alla normalità passeranno mesi con conseguente disagio al traffico, già messo duramente alla prova, dai lavori di ricostruzione che spesso e volontieri portano a deviazioni e cambi di percorso. Infine, ma non meno importante, la vicenda dei residenti dell'edificio, che dopo l'abbattimento speravano in un rapido avvio dei lavori di ricostruzione, che inevitabilmente adesso slitteranno di diversi mesi. E adesso una notizia che arriva da Vasto, sporgerà denuncia contro i gnoti. Il vice sindaco della città del Vasto, Paola Cianci, lo annuncia all'indomani dell'incendio che ha distrutto un'ampia porzione di vegetazione spontanea nella zona dunale inserita nel SIC a Vasto Marina nei pressi dell'hotel Perrozzi. Daremo mandato ai nostri uffici legali perché il nostro territorio è patrimonio di tutta la comunità e a ciascuno di noi tocca il compito di tutelarlo. L'amministrazione comunale ha ringraziato i vigili del fuoco e i volontari del gruppo comunale della protezione civile per il tempestivo intervento grazie al quale i danni sono stati contenuti, pur avendo interessato un ettaro di aria dunale ad alimentare le fiamme. Ieri pomeriggio il forte evento di Maestrale, i vigili del fuoco, subito dopo aver spento le fiamme, hanno effettuato una ricognizione aerea alla ricerca di eventuali elementi utili ad accertare l'eventuale origine dolosa del rogo. Torniamo a Pescara. È sceso sensibilmente il numero dei verbali combinati nel capoluogo adriatico nel 2016, 20% in meno secondo i calcoli dell'amministrazione comunale, anche se sono aumentati gli incassi grazie alle riscossioni di tutte le sanzioni notificate nel 2015. Esce una nota del Comune di Pescara che riguarda le sanzioni sulla viabilità. La nota positiva è che diminuiscono le sanzioni, ma in realtà per le casse del Comune c'è un maggiore introito. Si succede che rispetto alla normalità scorsa nel 2016 abbiamo registrato un meno 20% di multe, questo è un dato importante perché le multe non piacciono a nessuno, però il rispetto delle norme stradali vale a rendere una comunità più civile. Abbiamo numeri che vanno nel senso di una maggiore collaborazione dei cittadini e di questi ne siamo fieri. Riscontriamo anche un dato dall'altra parte della questione ugualmente importante, cioè che gli incassi legati alle sanzioni dell'anno precedente sono stati effettivamente effettuati, le multe sono state pagate e quindi il saldo è attivo. Per quanto riguarda la ZTL, dopo le tante polemiche che c'erano state anche sulla pedonalizzazione, il comportamento dei cittadini qual è stato guardando tutte le sanzioni? Le ZTL naturalmente sono una forma di disappunto per chi vi risiede, però i centri cittadini pedonalizzati impongono delle norme a favore di un godimento collettivo e quindi questo sacrificio che si chiede all'individuo è compensato con un beneficio più ampio per la fruizione collettiva e credo che questo dato delle multe incoraggi in questa direzione. Siamo alla perdonanza, potenziamento della mobilità, turismo e iniziative per incentivare le presenze nel centro storico dell'Aquila. Manca meno di un mese all'avvio della perdonanza celestiniana, ma già si lavora per promuovere l'evento. Si scaldano i motori e si moltiplicano le iniziative in vista dell'edizione 722 della perdonanza celestiniana. Il giubile aquilano scatterà il 23 agosto e, in concomitanza con l'accensione del tribo dei a San Bernardino, il comutato promotore della perdonanza ha organizzato una notte festante che animerà il centro storico dalla villa comunale passando per Piazza Duomo fino alla Fontana Lomenosa. Con musica, teatro, danze dal mondo, esibizioni corali, accompagnate dalla degustazione di vini e prodotti tipici del territorio. Il comitato ha inteso porre in essere anche iniziative connesse alla mobilità e alla promozione turistica. AMA attiverà una linea di bussa, appunto la numero 722, che nei giorni della perdonanza e fino al bucane del jazz, 2, 3 e 4 settembre, collegherà le periferie est e ovest con il centro storico, con corse che, a intervalli di 15 minuti, in un momento di massimo flusso, serviranno alla città dal mattino e fino a tarda sera. Ma attrarre i turisti e, soprattutto, farli rimanere in città è l'obiettivo dei pacchetti lanciati dal Consorzio Albergatorio Aquilani, che si protelleranno anche questi sin dalla Rodona Nazionale di Jazz, prevista per i primi di settembre. È importante farli stare almeno tre giorni sull'Aquila e sul territorio aquilano per stimolare l'indotto che può generare il turista sul territorio. In realtà, da studi statistici, si sa che più del 60% della spesa viene fatta fuori dall'albergo, solo il 40% circa resta in hotel. Quindi ci aspettiamo che nei tre giorni loro possano visitare e approfittare del nostro territorio in termini sia culturali che di offerta di prodotti tipici ed altro, generando un indotto turistico notevole. Proseguiamo con gli eventi. Appuntamento domani, scusate, sì, mercoledì 27 luglio alle 21.15 al Parco dei Gesuiti di Pescara con Raccontiamo Pescara, lo spettacolo narrazione curato da Licio di Biase che si pone l'obiettivo di estendere sempre più la conoscenza della storia della città di Pescara. Durante l'evento ci saranno vari momenti con uno spazio dedicato alla narrazione di Licio di Biase che parlerà del concetto delle rughe e degli otto luoghi identitari. Letture e sketch dedicate a momenti della vita della città con gli attori Luigi Ciavarelli, Rossella Micolitti e Assunta Dezio. Poi verrà trasmesso un video con un'intervista a Restituto Ciglia curata da Mila Cantagallo e Licio di Biase. Al termine ci saranno le letture di Vincenzo Olivieri, di Sonetti e Quartine di Gabriele D'Annunzio scritti in dialetto e recentemente pubblicati nel libro D'Annunzio e il suo dialetto. Il tutto condito con due momenti musicali con la compagnia di canto popolare Abruzzo Forte Gentile e con il coro gospel sound machine che canteranno brani della tradizione musicale. Mediterranea compie 31 anni, l'evento enogastronomico che riunisce tutte le eccellenze di Abruzzo torna alla Marina di Pescara il 29 e 30 luglio con una edizione che ospiterà anche eventi dedicati alla settimana mozzartiana di Chieti. Mediterranea è una conferma, quest'anno ha anche una collaborazione con Chieti e la settimana mozzartiana perciò si amplia e ovviamente questo non fa che dare nuova luce e soprattutto nuova affluenza. Assolutamente, utilizziamo questa sinergia con la settimana mozzartiana di Chieti, il sindaco di primi ha avuto questa idea, gli riconosco questa primogenitura per cui l'abbiamo accettato con entusiasmo, venentieri e noi siamo convinti che la formula adottata quest'anno si vada in linea con gli ultimi anni che hanno dato numeri importanti, in particolare avremo le tre serate con le chef stellati, avremo i vent'anni della DOP a Prutino Pescarese, per cui ci sarà tanto da vedere, tanto da assaggiare, una cinquantina di espositori importanti dell'agroalimentare con questa novità delle biliartogianali che si sta imponendo è molto importante, l'area street food con diretti e CIA, per cui aspettiamo tutti al porto turistico perché siamo certi, siamo assolutamente certi che la formula insieme a questo gemellaggio con la settimana mozzartiana di Chieti sarà molto interessante per chi ci viene a trovare. Ad Azzinano di Tossicia in provincia di Teramo, sedicesima edizione consecutiva della manifestazione I muri raccontano quest'anno il tema I giochi di una volta Muri d'autore, giochi di una volta, astronomia e profondo in lavanda per le vie del paese dipinto Ad Azzinano di Tossicia torna la sedicesima edizione dei muri raccontano tre giorni di arte, musica e svago nel paese delle pareti dipinte che si stagliano come una tavolozza naturale sullo scenario suggestivo del Gran Sasso. La manifestazione si aprirà con la tradizionale festa della lavanda in cui ci saranno tutti i ragazzi, i bambini andranno a vendere i prodotti della lavanda. Vi sarà innanzitutto una prima parte didattica dove gli astronomi illustreranno il mondo dell'astronomia. La serata sarà allietata con musica dall'artista Luca Mongia. Il sabato la giornata inizierà alle ore 17 con il corso gratuito di pizzica e ci sarà alle ore 21 il concerto del progetto Manafè, domenica 31 luglio dove ci sarà il concerto alle ore 21 del gruppo musicale Laga Briganti e infine ci sarà la tradizionale estrazione della lotteria. Quest'anno però a parte i bambini saranno i grandi a fare i giochi dei bambini, cioè i giochi di una volta e quindi si svolgeranno da questa sera a martedì fino a giovedì prossimo in serata, quindi dalle 9 di sera in poi. Si rievocheranno dei giochi caratteristici dell'età infantile e parteciperanno squadre di tutte le associazioni della nostra zona, quindi dalla valle siciliana in generale. L'abbiamo fatto dopo aver avuto insistenti richieste da parte dei grandi che volevano dilettarsi nel ricreare un po' quell'atmosfera che c'era prima, senza nostalgia però è una bella atmosfera. Io sono uno dei tre artisti che ha partecipato nel 2001 alla prima edizione di questa manifestazione, sono qua nel 2016 per augurarmi che sia un continuo che vada avanti negli anni a seguire. Invece a Roccaraso appuntamento con la tredicesima edizione del Festival Internazionale degli Gnomi. Il 30 e il 31 luglio Roccaraso ospiterà la tredicesima edizione della Festa Internazionale degli Gnomi. Cosa accadrà, cosa vedremo in questi due giorni? Una festa del teatro ambiente, una festa delle famiglie, dei bambini, una festa del teatro ragazzi e soprattutto una festa per tutte le persone che amano la natura e le creature mitiche legate alla stessa. Dottoressa Monti, Unicef al fianco di questa iniziativa di Roccaraso. Vogliamo zero significa non vogliamo più che muoiano bambini nel mondo per fame e denutrizione per malattie. E per questo ci stiamo attivando tantissimo e trovare amici che stanno vicino a noi ci conforta tanto. E per combattere questa mortalità infantile l'Unicef si appoggia particolarmente sul Pamplinette. È un biscotto altamente proteico creato apposta e addirittura da un costo talmente irrisorio di 0,28 centesimi. Con cinque di questi biscotti si salva un bambino che sta per morire di fame. E allora io chiedo a tutti quanti voi, me lo sono chiesto pure a me stessa, con i soldi di queste bellissime magliette che sono state fatte, quanti Pamplinette possiamo comprare? Pensateci. Cerchiamo di dare un nostro modesto contributo con questa campagna Vogliamo Zero che noi abbiamo tradotto con Adotta uno gnomo e aiuterai un bambino. Con l'acquisto di una maglietta possiamo dare un nostro piccolo ma credo importante contributo a questa campagna grande di sensibilizzazione contro la fame nel mondo. Questo è il servizio di Paolo Renzetti, invece adesso apriamo la pagina dello sport. Partiamo dal Pescara, dopo il summit di questa mattina in prefettura a Chieti tra dirigenti e forze dell'ordine è stata presa la decisione di annullare l'amichevole di giovedì a Palena contro il Frosinone per motivi di ordine pubblico. La squadra di Massimo Oddo tuttavia giocherà sempre dopodomani e sempre alle 17, quasi certamente però contro il San Nicolò. Andrea Costantini. L'amichevole tra Pescara e Frosinone inizialmente programmata per dopodomani alle 17 non si disputerà. La partita è stata annullata per motivi di ordine pubblico. La decisione è stata presa stamani a seguito dell'incontro che si è tenuto in prefettura a Chieti alla presenza di rappresentanti delle forze dell'ordine e delle due società. Tuttavia il Pescara manterrà il programma fissato e dopodomani disputerà comunque una partita sempre alle 17 contro il San Nicolò con pagine di Serie D con cui da tempo è in atto una collaborazione stretta sotto il profilo tecnico. Intanto resta a vivo il mercato della società biancazzurra. Si fa sempre più probabile la permanenza rival adriatico di Valerio Verre dopo che l'Inter ha raffreddato il suo interesse per la mezzala, mentre la Sampdoria ha virato sul polacco Linetti che costa meno dei 6 milioni richiesti dal presidente Sebastiani. Il reparto va comunque numericamente completato. Si puntava sul ritorno in prestito di Mandragora dalla Juventus ma il gioiellino di Scampia rischia a breve un'altra operazione per l'infortunio patito nella gara con Lentella. Il Pescara ha avviato allora contatti con il cileno David Pizarro, 37 anni, noto per i suoi trascorsi in Italia con Udinese, Roma, Inter e Fiorentina, attualmente in patria nel Santiago Wanderers. Non è esclusa una forte accelerazione nelle prossime ore. Restano vive le piste che portano anche ad alcuni esperti centrocampisti italiani come Giulio Migliaccio, Alessandro Gazzi e Gian Piero Pinzi. Quest'è un attacco. Ieri Alessio Di Massimo ha lasciato il ritiro per andare in prestito alla San Benedettese. Andrea Cocco è in procinto di andare al Frosinone. Si scalda la pista in entrata per Pablo Daniel Osvaldo. Il talentuoso italo-argentino a 30 anni potrebbe rilanciarsi in rival adriatico. Al momento è svincolato e la partita si gioca sull'ingaggio. L'attaccante ha abbassato le pretese, 700 mila euro, ma è ancora troppo per le casse del Delfino. Per il figlio d'arte Giovanni Simeone del River Plate ci siamo, ma la situazione è destinata a sbloccarsi in via definitiva solo dopo le Olimpiadi, che Simeone giocherà con la sua Argentina. Adesso invece scendiamo in Lega Pro per parlare del Teramo. È soddisfatto l'allenatore biancorosso Lamberto Zauli rispetto a quanto fatto vedere dal Teramo nella prima uscita stagionale contro il Pescara. Ma c'è ancora tanto lavoro da fare per inserire nuovi giocatori e creare la giusta intesa nel gruppo. Sentiamo. Zauli, prima uscita contro un avversario importante come il Pescara. Un primo tempo che ha visto un Teramo convincente per quello che può essere dopo dieci giorni di lavoro. No, va bene. Siamo contenti della partita fatta. È assolutamente la prima volta che ci schieravamo in una partita. Quindi di fronte al Pescara siamo contenti per l'atteggiamento, per la compattezza di squadra, per aver provato quello che facciamo tutti i giorni. Quindi sono contento, ma ho abbastanza esperienza per capire che serve ancora tanto. È stato assolutamente un semplice allenamento, pur se gratificante, perché ci siamo venuti qui ospiti del Pescara. Quindi per noi è stata una grandissima giornata. Detto questo, è stato importante aver fatto un ottimo allenamento, essere cresciuti e soprattutto non aver subito infortuni, che è importante. Quindi è una tappa di avvicinamento alle partite che conteranno, visto che noi la settimana prossima già saremo impegnati in Team Cup. Quindi è chiaro che questa partita ci deve dare forza, ci deve dare autostima, ci deve dare convinzione. E nello stesso tempo dobbiamo avere quell'umiltà di migliorarci sempre di più. Questi sono i valori che la mia squadra, noi dobbiamo cercare di portare avanti ogni giorno. Chiaramente c'è la grande curiosità per gli ultimi innesti e subito in campo nel tridente Luca Forte e Marco Sanzovini con Antonio Croce. Anche loro hanno destato una buona impressione. Sì, abbiamo preso 5-6 attaccanti, tutti in grado di poter far bene. Quindi è chiaro che l'esperienza di Sanzovini, la qualità di Sanzovini ci sarà molto utile. Croce è un giocatore che l'anno scorso ha fatto molto bene. Luca Forte è un giocatore giovane che ha grandissime potenzialità. Ma abbiamo Carraro, abbiamo tantissimi altri giocatori che possono far bene. Quindi dobbiamo crescere come squadra, trovare l'equilibrio giusto che nel nostro campionato ci permetterà di fare un buon campionato. Cosa sta capendo di questo ambiente, di questa proprietà che è notoriamente molto ambiziosa? No, no, presidente Campitelli in primis. Vabbè, ma quando io ho accettato Teramo è perché l'anno scorso ci ho giocato contro, perché conosco la proprietà, conosco le ambizioni della proprietà, della piazza e quindi per me è un onore essere qui. Quindi cercherò di fare tutto il possibile insieme al mio staff per conquistare la stima della società, la stima dei giocatori e la stima dei tifosi. Quindi questo è esclusivamente il mio compito. È stato attivato il conto corrente bancario per contribuire all'iscrizione della Prolanciano al campionato di Serie D. L'iniziativa portata avanti dal sindaco della città Mario Pupillo e da un gruppo di tifosi è stata illustrata questa mattina in municipio. L'iscrizione, ha detto Pupillo, sarà fatta se si raggiungerà una cifra adeguata e se si avrà la coscienza di poter allestire una squadra adeguata. Se non ci sarà la forza sufficiente potremo tentare di ripiegare sui campionati di eccellenza o sulla promozione. Con la sottoscrizione, ha continuato Pupillo, vogliamo provare ad avvicinare imprenditori che vorrebbero contribuire ma non possono esporsi in prima persona, nonché svegliare la città che sta perdendo le speranze. E questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Io vi ringrazio per averci seguito fino ad ora e vi ricordo le prossime edizioni del TG6 alle ore 19 e alle ore 23. Grazie ancora per essere stati con noi. Buona giornata. Grazie a tutti.